Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Mobile Fanpage. Oggi voglio parlarvi del PIL, un sistema di speaker portatili diretto concorrente del Jambox di Geobon che vi darà la possibilità di ascoltare tutti i vostri dispositivi Bluetooth in mobilità e ovviamente senza fili. Prodotto dalla stessa azienda che produce ormai le cuffie più famose del mondo, il PIL, è un dispositivo davvero molto molto interessante ed in questo video ovviamente lo metteremo alla prova per capire se il prezzo di 199 euro vale l'acquisto. Io sono Dario Caliendo e vi do un meraviglioso abbraccio e buona visione. Diamo un veloce sguardo alla confezione, vi anticipo che se la qualità sonora del PIL fosse in proporzione alla qualità dei materiali e alla qualità della confezione ci dovremo trovare di fronte ai migliori speaker mai realizzati. In realtà non è proprio così ma di questo ne parleremo dopo. Dalla confezione esce oltre al PIL che viene conservato in questa confezione che in effetti viene aperta la prima volta quindi se una scatola, se una confezione di bits è stata aperta voi ve ne accorgete dal fatto che dietro manca questa cartina. Inoltre esce il cavo o micro USB per la ricarica ed il cavo o jack cuffie se vogliamo chiamarlo così, insomma quello da 3,5 mm che serve per connettere il PIL tramite una connessione cablata quindi nonostante sia un dispositivo Bluetooth si può utilizzare anche con il cavo. Inoltre esce questo moschettone che serve per attaccare il PIL non so a uno zaino o a una borsa in modo tale da poterselo portare con sé senza essere troppo impegnati con troppa roba in borsa. Inoltre esce dalla confezione il caricabatterie davvero molto bello con il logo di bits, ovviamente USB e serve per caricare il dispositivo e anche per utilizzarlo in modalità di alimentazione quindi insomma se siete in casa per esempio potrete anche utilizzarlo senza utilizzare la batteria. Il diretto concorrente del GEMBOX non solo per quanto riguarda la categoria di prodotto ma anche per quanto riguarda le dimensioni questo è un GEMBOX, vi faccio vedere paragonato al PIL come dimensioni, insomma come stiamo, sono più o meno delle stesse dimensioni. Il Beats PIL è uno speaker Bluetooth realizzato ovviamente dall'azienda che ormai è famosissimo per la linea di cuffie che tutti praticamente acquistano. Esce dalla confezione anche questa comoda borsetta davvero molto bella da dire la verità di viaggio semi-rigita, quindi insomma riesce a proteggere relativamente ovviamente gli speaker. La qualità costruttiva degli speaker, adesso leviamo l'adesivo, la qualità costruttiva degli speaker ragazzi è davvero fantastica. Io quando ho aperto la confezione ho detto cavolo, è davvero molto bello. In effetti però la qualità dell'audio non è in proporzione alla qualità dei materiali. Perché? Perché il PIL ha prima di tutto 4 speaker, potete vedere, da 12 Watt. Però se siete abituati alla qualità che dà Beats nelle proprie cuffie, sia per quanto riguarda il bilanciamento del suono che per quanto riguarda le prestazioni ad alti volumi, magari con questo sistema di speaker sicuramente potreste essere un po' delusi. Ma di questo ne parleremo dopo. Facciamo una descrizione del prodotto. Avanti abbiamo questo logo di Beats che è anche un pulsante che serve a utilizzarlo in base al dispositivo con il quale è connesso. Cioè possiamo mettere play e pause, possiamo gestire un po' la riproduzione musicale. Inoltre una chicca, il logo di Beats si illumina, ma questo a noi non interessa. Dietro troviamo i tasti per il volume, meno e più. E' davvero molto interessante, come potete vedere, troviamo il logo di NFC. Perché? Perché il Beats PIL è compatibile con i dispositivi NFC. Dopo vi farò vedere come funziona. Praticamente basta avvicinare il telefono allo speaker e automaticamente inizierà la connessione. Sul retro troviamo entrata per il cavo micro USB che serve per la ricarica, LED che ci indica quando il dispositivo è in modalità di accoppiamento, questo pulsante che è il pulsante di accensione e poi questi due jack per le cuffie che sono davvero molto interessanti. Perché? Perché oltre a poter utilizzare il PIL come uno speaker cablato, si può utilizzare anche come una sorta di ricevitore, cioè connettendolo via Bluetooth ai nostri dispositivi e connettendolo ad esempio ad un amplificatore domestico tramite l'uscita, perché questo è un out, è possibile utilizzare i nostri dispositivi con uno stereo, sicuramente delle prestazioni migliori, utilizzando il PIL come ricevitore Bluetooth. E' davvero molto molto interessante questa funzione. Adesso proverò a farvi vedere come funziona il PIL. Cercherò di descrivervi la qualità dell'audio perché ovviamente in video è difficile farvela capire, farvela sentire e trarremo un po' le nostre conclusioni. Ed eccoci qua. Il PIL ovviamente è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth, sia inizialmente un iPhone o dispositivi Android o dispositivi Windows Phone. Adesso utilizziamo l'Anka TC1 perché? Perché vorrei farvi vedere anche il discorso dell'NFC. Prima di tutto dobbiamo accendere il PIL e lo facciamo premendo questo pulsante. Come potete vedere il logo si è illuminato e questo ci fa capire che il dispositivo è acceso. Per connettere un dispositivo utilizzando la modalità NFC cosa bisogna fare? Bisogna accendere il dispositivo, ovviamente con l'NFC attivo, e afficcinarlo nella parte di dietro. Vedete che ci viene chiesto se vogliamo accoppiare il dispositivo Bluetooth? Noi diciamo sì. E il dispositivo dovrebbe essere accoppiato. Eccoci qua. Adesso, con questo suono, il PIL ci ha avvisato che il dispositivo è connesso allo smartphone. Ovviamente ragazzi, come dicevo prima, è difficile farvi capire la qualità dell'audio in un video perché, insomma, tramite il microfono ovviamente viene un po' modificata. Ma quello che vorrei farvi vedere io non è tanto la qualità dell'audio, perché magari quello ve lo descrivo, ma le prestazioni adatti volumi. Perché? Perché in effetti le cuffie di Beats, quando si alza il volume, assolutamente non distorgono. Invece il PIL, purtroppo no. Quando si alza il volume al massimo, i quattro speaker da 12 W non riescono a reggere la situazione e incominciano proprio a gracchiare. Adesso vi faccio vedere. Lo farò utilizzando un microfono esterno. Inizierò un brano con dei bassi abbastanza alti, in modo tale da farvi capire bene il difetto di quale vi sto parlando. Siamo con il volume più basso. Il volume assolutamente non è al massimo. In effetti adesso è anche abbastanza basso. Andiamo un po' più avanti. Sicuramente avrete notato, nonostante il volume fosse davvero molto alto, in effetti quando si tratta di dover riprodurre dei brani con dei bassi molto marcati, a parte il fatto che il logo incomincia un po' a lampeggiare, questo perché? Perché la batteria non riesce ad alimentare un po' il tutto senza problemi. Ma il suono inizia a gracchiare, inizia a gracchiare e la cosa è anche abbastanza fastidiosa. Ed è un difetto che in effetti aumenta quando la batteria escarea. Quindi secondo me è proprio un problema di alimentazione ovviamente, oltre che il problema relativo agli speaker che sono piccoli. Non c'è un compressione di dinamica adatto ad adattare il processo di riproduzione in base al volume e alla frequenza utilizzata nel brano. Detto questo, il suono del beat pill in relazione al volume è davvero molto molto buono, il volume è alto, si sente bene anche all'aperto, vi assicuro che io l'ho portato in giro parecchio e all'aperto si sente davvero molto molto bene. Per quanto riguarda invece il bilanciamento del suono, anche in questo caso non ne sono molto soddisfatto perché praticamente parecchie frequenze vengono tagliate, i bassi sono, non dico inesistenti perché un pochino si sentono, ma chi acquista un dispositivo del genere che costa 199 euro e vede la marca, Beats lo acquista ovviamente per la marca, si aspetta un suono decisamente migliore soprattutto pensando al fatto che le cuffie hanno dei bassi davvero molto molto marcati il beat spill ha dei bassi medio bassi, non si sentono davvero molto gli alti sono buoni, i medio sono molto molto accentuati quindi quando si va ad ascoltare la musica con questo sistema di speaker in effetti si rischia di ottenere un suono bilanciato male soprattutto con dei medi molto molto accentuati e dei bassi poco profondi insomma il beat spill è un dispositivo che purtroppo non mi sento di consigliarvi non mi sento di consigliarvi perché? perché nonostante i materiali con il quale è realizzato siano davvero ottimi quando lo utilizzate, lo prendete in mano e vi rendete conto che è davvero un dispositivo molto molto solido la qualità dell'audio non è a livello della spesa ricordandovi che il dispositivo costa 199 euro quindi insomma non è che costa poco e soprattutto non è a livello della marca e del marchio che utilizza insomma questo sistema di speaker se non avesse avuto il logo di Beats sarebbe costato una cinquantina, sessantina di euro per quanto vale a livello di riproduzione sonora insomma questo è il mio pensiero sicuramente qualcuno l'avrà acquistato e dirà che si sentirà benissimo per la mia esperienza vi assicuro che non è il top soprattutto in paragone al prezzo insomma il rapporto tra qualità e prezzo secondo me non è giustificato io sono Dario Caliendo per Mobile Fanpage ci vedo appuntamento al prossimo video del nostro meraviglioso sito e vi mando un abbraccio ciao ciao